Luigi Celori, un risultato forse atteso ma non così tanto quello di questo ultimo spoglio, Camera e Senato, grande il boom del Movimento 5 Stelle. Sì, sicuramente il voto di protesta c'è stato anche qua da noi a Pomezia, ricordiamo la presenza pure di Pepe Grillo due volte, è venuto qua sul territorio. Una cosa però sono le politiche, altra cosa sono le comunali, quando poi si dovrà entrare nel merito dei problemi. Noi rititiamo un comune disastrato sull'orlo del dissesto finanziario, poi bisognerà proporre cose concrete e credo che conterà di più la credibilità di chi poi può realmente rilanciare questo comune e creare una nuova economia. Lei sta già guardando alle prossime amministrative, però il risultato non è stato cattivo per quanto riguarda anche il Senato e la Camera secondi a Pomezia e ad Ardea. Sì, credo che poi il grande risultato ha dimostrato ancora una volta che aveva ragione Berlusconi è riuscito a ritirare su le sorti del PDL e noi partivamo da un 12-13%, questo era il dato che ci accreditavano a livello nazionale come PDL e credo che arrivare a 128 mila voti da Bersani alla Camera sia un fatto estremamente positivo. Questo può dipendere anche dal fatto che nel Movimento 5 Stelle siano confluiti per la maggior parte voti del PD? Io credo che nel Movimento 5 Stelle ha raccolto un voto trasversale anche a parte di delusi del PDL, ricordiamo pure tutta la polemica che c'era stata nel PDL, primaria sì, primaria no, la frammentazione pure del PDL, credo che anche una parte del centrodestra comunque in questa tornata elettorale ha espresso un voto di protesta su Grillo. I voti dati al 5 Stelle servono a fare reggere una compagine di deputati, di consiglieri regionali del 5 Stelle che non sono sì società civile ma sono tutte persone collocate nel mondo antagonista, nell'estrema sinistra, quindi magari un voto di protesta dato da un teorico elettore del PDL serve a far arrivare al Parlamento, al Senato e anche in regione una persona che comunque è dichiaratamente di sinistra, almeno non nel corpo elettorale ma sicuramente negli eletti. Lei è già pronto quindi per le prossime amministrative? Sì, noi partiremo da adesso, l'ho portato qua un volantino che diventerà un manifesto, un cartellone stradale e un camper che dice in maniera chiara facciamoci rispettare a casa nostra e la sintesi delle nostre peculiarità. Partirà la prima fase di Cine Città Award, occuperà 5.000 persone, credo che tutti sanno che quel territorio del Comune di Roma in realtà è più vicino a Tardia e a Pomezia che a Roma Centro, quindi sarà un'occasione per i nostri giovani. Io sono stato già dai vertici di questo nuovo parco tematico perché hanno un problema che è riferito chiaramente alla nuova pontina rispetto agli svincoli ma naturalmente lì ho chiesto un'attenzione particolare per il nostro territorio perché se riusciamo a fare una sinergia con lo zoo marine, con la nostra area archeologica, con il nostro territorio sicuramente potremmo rivitalizzare la nostra economia.